Presidente Todaro, sabato il sorpasso, mercoledì l'allungo, una sua previsione è stata confermata, lei ci ha sempre creduto alla restituzione dei tre punti e al positivo esito del ricorso. Una sua impressione sull'accaduto? Ma io, come dicevi, ci ho sempre creduto, a meno che non è quello che noi abbiamo sempre letto nella giurisprudenza e nella Costituzione, che l'italiano è un italiano non solo se è nato all'estero, ma anche se è adottato. Io ho fatto anche un esempio come console che va a Parigi, lì ha un figlio a Parigi, però poi torna in Italia e dice, come non italiano è straniero. E quindi io ci ho sempre creduto, è avvenuto quello che pensavo. Da oggi cosa cambia nel campionato della Libertas e nelle aspettative future? Ma io penso che non cambia niente, noi eravamo sereni che quei tre punti li avremmo riavuti, quindi noi eravamo già col pensiero che avevamo un punto in più dell'Avis. Poi è logica che è venuta questa sconvitta che noi non pensavamo che avvenisse, è stata una manna dal cielo, però noi siamo sereni, tranquilli, continueremo a fare come sempre fatto, partita su partita, come giustamente ha detto il mister, che non abbiamo vinto niente, è tutto da fare ancora. Per quanto riguarda l'esito della sentenza, la favorita è solamente la Libertas, le altre squadre non possono approfittare dalla decisione del giudice? No, perché gli altri non hanno fatto mai giocare un giocatore in quello stato e quindi non è avvenuto niente, solo che adesso cambieranno la normativa e quindi penso che toglieranno quel nato in Italia, ma metteranno da genitori italiani, come è giusto che sia. E secondo lei ci potrebbe essere qualche altra squadra a ricorrere proprio perché non hanno potuto beneficiare fino ad oggi? No, perché per ricorrere in questi casi doveva prima di tutto essere in difetto far giocare un italiano che per la Lega è straniero e poi la sua traversata doveva fare entro 24 ore il reclamo, se no non ha diritto a avere la partita vinta. Finalmente parte la Coppa Italia, gli obiettivi della Libertas? Eh, noi vogliamo farle finalette, è un nostro obiettivo anche quello, speriamo che va tutto bene. Mister Bommino, allora sabato il sorpasso, mercoledì l'allungo, per la Libertas cosa cambia da sabato? Bah, diciamo che non è cambiato nulla, quello che chiedo ai ragazzi appunto in questo allenamento ho predicato massima concentrazione, rimanere sempre attenti perché l'insidio è sempre dietro l'angolo, quindi ci mancano sette partite, dovevano essere sette finali e poi vediamo alla fine cosa riusciamo a fare. Un distacco di quattro punti sulla seconda forse può provocare un calo di concentrazione visto sempre i finali di gara poi che fa la Libertas? Bah, nei finali di gara Sinatura è qualcosa che abbiamo concesso noi, più che un calo fisico, quindi siamo noi che concediamo un po' per sufficienza, questo non deve più accadere, specie ora perché un passo falso complicerebbe tutto il lavoro fatto Sinatura. Finalmente può partire la Coppa Italia, l'obiettivo della Libertas sono solo le finalette o punta a qualcosa più in alto? Bah, noi in questi tre punti ci speravamo, l'ho detto già da tempi non sospetti che ero fiducioso in questo. Per quanto riguarda la Coppa Italia è un impegno notevole questo, quindi servirà tutta la rosa a disposizione. Noi cercheremo di lottare su tutti i fronti, quindi raggiungere sempre il massimo obiettivo. Quindi puntare la vittoria della Coppa Italia? No, puntare la vittoria no, come non eravamo partiti per puntare al campionato, però di fare il massimo, questo sì sempre.